I pugliesi e la vela, un rapporto che con il passare degli anni diventa sempre più intenso. Lo sa bene il Comitato Regionale della Federazione che nei giorni scorsi ha rinnovato i propri vertici. I tesserati nel 2014 erano 6.700 in Puglia, tesserati FIB, sono diventati nel 2016 10.500, ma mancavano ancora due mesi alla fine dell'anno. Ad avvicinarsi a questa disciplina sono soprattutto i più giovani. Nelle scuole vela della federazione, perché i nostri istruttori sono istruttori della federazione vela, quindi vengono autorizzati e sono gli unici che possono fare questa attività nei diversi circoli, siamo passati da 1.300 nel 2014 a 1.950 nel 2016. Un lavoro, quello con i giovani appassionati, che non può però prescindere dalla formazione degli istruttori. Molto è stato fatto anche in termini di formazione dei nostri istruttori, perché noi abbiamo gli istruttori che appunto seguono l'attività di formazione degli atleti, con molti raduni che vengono effettuati, con gli aggiornamenti che facciamo nei loro confronti. Il territorio barese, secondo la federazione, sta rispondendo bene. Bari è oggettivamente un centro molto rilevante per l'attività velica. Le strutture offrono ospitalità qualificata e quindi abbiamo una grossa presenza di attività velica. Grazie! Grazie!